Dovranno scontare oltre 50 anni di carcere per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Arrivano condanne definitive per otto imputati della max inchiesta turnover compiuta a Trinitapoli dai carabinieri del nucleo investigativo di Foggia coordinati dalla direzione distrettuale antimafia. Il loro ricorso è stato rigettato dalla corte di Cassazione che ha quindi confermato le condanne per oltre mezzo secolo. L'inchiesta è partita nel luglio 2020 a seguito del blitz dei carabinieri a Trinitapoli e l'arresto di 12 persone. L'attività investigativa portò alla luce un'organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti nel territorio casalino e nei comuni limitrofi che nel corso degli ultimi anni è stata anche protagonista di una guerra di mafia per il controllo del territorio e dei traffici illeciti con particolare riferimento alla faida tra i clan Miccoli De Rosa Buonarota e Carbone Gallone e ai diversi omicidi di mafia come quelli del boss Pietro De Rosa avvenuto il 20 gennaio del 2019 e Cosimo Damiano Carbone ucciso tre mesi dopo sempre a Trinitapoli. Il gruppo criminale aveva come base operativa il quartiere delle case maledette del comune casalino. Notte e giorno secondo quanto emerso dalle indagini gli spacciatori si avvicendavano e venivano riforniti di droga pusher che erano protetti da una rete di vedette e nel corso delle indagini è emerso anche che agli spacciatori veniva garantito uno stipendio che poteva arrivare anche a 500 euro a settimana, cocaina, hashish e marijuana, le sostanze vendute.